L'Assunzione della Beata Vergine Maria al Cielo è una festa che ha dei messaggi molto profondi, che chiediamo che diventino sostanza dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, delle nostre azioni, in modo da esserne testimoni in tutte le circostanze della vita. La vorrei dire con tre frasi, ecco, della Sacra Scrittura. La prima frase è nella seconda lettura. Cristo è risuscitato dai morti. Lui ha la primizia. Così tutti riceveranno la vita in Cristo. Seconda frase. L'ultimo nemico ad essere anientato sarà la morte. Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. E la terza, la prendiamo dal Vangelo, il bambino è esultato di gioia nel suo grembo. Cominciamo dalla prima frase. Cristo è risuscitato dai morti. Lui è primizia. Così tutti riceveranno la vita in Cristo. Cristo è morto, ma è risorto. Anche noi moriamo, ma risorgeremo. Maria assunta in cielo, anima e corpo, e conferma anticipazione e garanzia anche della nostra risurrezione e assunzione al cielo, anima e corpo, per noi e per i nostri cari, per tutta l'umanità. È affermazione di fede, che non la possiamo verificare con prove scientifiche o ragionamenti filosofici, ma è fondata su Gesù. E di Gesù possiamo fidarci. Però, come ogni certezza di fede, perché diventi luce al pensiero, stimolo ai sentimenti, sostegno nel buio, forza e direzione nel cammino, richiede di essere quotidianamente affermata nel cuore. Cristo è risorto. Anche noi risorgeremo. Ripeterci questo atto di fede, tanto più frequentemente e liberamente, quanto più ci sembra lontano e impossibile e incredibile. È un impegno per questi giorni e per sempre. Secondo. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Bisogna che gli regni, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. Davanti allo scenario quotidiano delle cronache, per esempio della televisione, che ci fa vedere attentati, guerriglie, incidenti, malattie, dove la morte trionfa, sembra. Il cristiano oggi, guardando a Maria, che per i meriti di Cristo trionfa sulla morte, afferma, eppure sarà la vita a trionfare. Definitivamente e totalmente nel paradiso. Ma già con qualche segno anticipo qua giù. E' vero, dipende dalla nostra responsabilità e libertà. Dio non si sostituisce all'uomo, ma il Dio della vita non ha il carattere di perdente. E' un lottatore che combatte con noi e in noi contro il male, con volontà di vincere. E' questo significato dei due segni grandiosi dell'Apocalisse che abbiamo visto nella prima lettura. Tutta la storia dell'umanità è una lotta gloriosa tra le forze del bene, gli uomini che vogliono il bene, la vita, simboleggiata dalla donna, che è simbolo certamente di Maria, ma è simbolo di tutta l'umanità. E le forze del male, coloro che cercano il male, la morte, Satana e i suoi angeli, il dragone rosso fuoco. Non è stabilito un destino, ma è affermato una volontà di salvezza e di vittoria del bene da parte di Dio. A noi è chiesto di schierarci concretamente dalla sua parte, dalla parte della vita. Terzo, il bambino è esultato di gioia nel suo grembo. Ecco, così si dice nel Vangelo. L'incontro fisico che diventa rapporto di grazia. Così potremmo definire l'incontro tra Maria e Elisabetta. La festa dell'assunzione di Maria è la festa del corpo, il corpo di Maria glorificato, il corpo fecondo di vita nella gravidanza, il corpo arca dell'alleanza, segno della presenza di Dio in mezzo a noi. Anche questo messaggio sul valore del corpo umano è importante oggi. Non corpo oltraggiato dalla violenza, dalla malattia, dalla fame. Non corpo strumento di morte, ma capace di dare vita, addirittura bomba umana. Non corpo espressione dell'egoismo, oggetto di concupiscenza malsana, globalizzato, gambizzato, ma corpo sorgente di piacere condiviso e impegnato, dono di amore e di vita, addirittura tempio dello Spirito Santo, sacramento della sua presenza e della sua grazia. Pensiamoci.